Buonasera e ben ritrovati a una nuova puntata di Angoli, buon inizio di settimana sempre qui con noi come tutte le sere. Quest'oggi saremo ricchi, cercheremo di offrirvi tanti spunti di riflessione e non solo. Nella seconda parte parleremo della settimana dell'infanzia e dell'adolescenza con un progetto, un convegno specifico che riguarderà la città di Como. Intanto vi ricordo la nostra mail angolichiocciolaespansionetv.it, mi raccomando utilizzatela come sempre per comunicare con noi. Ora però parliamo di un altro argomento, parliamo della bocciofila combattenti e lo facciamo in compagnia del suo segretario Cosimo Moscato, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a voi. Iniziamo con il raccontare un po' la vostra storia e le vostre attività ai nostri telespettatori. La nostra storia, la bocciofila, nasce nel 1949 e appunto si occupa del gioco delle bocce, è regolamente iscritta alla FIB, che sarebbe la federazione del gioco delle bocce, ed è costituita da un gruppo di persone volontari. Infatti la nostra associazione non ha scopo di lucro. La proprietà che si trova in via Sarefino palestra è di proprietà del comune. Purtroppo viviamo in un momento di crisi e anche il comune è un po', diciamo così, tra virgolette, carente, perché non possiamo dare solo la colpa al comune, ma è proprio la società in questo momento che vive difficoltà economiche. Noi quello che chiediamo al comune, diciamo così, a meno di, siccome è stato fatto nel 1949 una ristrutturazione del tetto, attualmente purtroppo il tetto, sono passati degli anni, ci piove dentro. Se magari troviamo qualcuno che ci possa aiutare, anche il comune stesso, benvenga. Dico un po' la storia della nostra bocce, la bocce è costituita da un gruppo di persone, c'è un presidente, il consiglio è formato da sette persone, c'è il cassiere, il revisore dei conti, i vari consiglieri. Io faccio parte della bocce da tre anni e sono il segretario. Mi occupo un po' della gestione così di pubblica relazione, se si può dire. Infatti, come posso vedere, sono qui a parlare con voi per chiedere aiuto, se ci fosse qualcuno che ci può aiutare. Le nostre iniziative sono tante ed è un peccato perché all'interno del nostro box office c'è un gruppo di persone, di iscritti, sia iscritti che vengono passate le ore a, diciamo così, fare una partita a carte, guardare il gioco del box, anche dei giocatori. Ma maggiormente queste persone che vengono trovano la bocce come seconda casa perché passano delle ore in tranquillità e poi socializzano con altre persone. Noi, diciamo così, gli interventi che abbiamo fatto è quello di dare spazio a tutti. Infatti la nostra bocce è frequentata anche da associazioni, come l'associazione Palma che è stata sabato a fare un torneo. Ed è quella di cui stiamo vedendo adesso le foto. Esatto, perfetto. E che già è il secondo anno e ci aiuto anche così con la loro presenza. Poi abbiamo le scuole con la Teresa Ciceri, poi ci sono un gruppo di persone che al martedì, persone anziane, che hanno, anziane tra virgolette, perché qui anziano non c'è nessuno finché si è qui a respirare quest'area, siamo ancora giovani. Infatti giocano tutti i martedì e danno, diciamo così, la loro presenza e hanno dichiarato che da quando giocano a bocce sono ringiovanite. Questo vuol dire... e poi noi vorremmo far conoscere anche la realtà ai giovani, perché non è più un gioco ma veramente uno sport, cioè confrontarsi con altre persone. All'interno, ripeto, noi siamo dei volontari. Gli iscritti non hanno, diciamo, quella quota che pagano. Serve forse a sostenere magari la luce, forse. Abbiamo anche qualche informazione di questo tipo, magari proprio per invogliare anche le persone a casa, di scriversi, proprio non semplicemente per praticare le bocce, ma anche come diceva il fatto. No, ma potrebbe essere anche un punto di risolvere, perché infatti la bocce offre si trova poi in un contesto molto bello. Attualmente purtroppo c'è anche il ristorante che mi ha affiancato e ha chiuso i battenti per motivi che noi sappiamo, nel senso che c'è una crisi economica in questo caso. La proprietà è ancora il comune, ma credo che a giorni ci dovrebbe essere una nuova gestione che sicuramente darà anche un valore aggiunto. Io quello che vorrei dire anche al comune che conosce bene la nostra situazione potrebbe essere un valore aggiunto anche per l'amministrazione, perché questa bocce offre ha dato, diciamo così, sono passati parecchi campioni, tanti campioni. Poi avere all'interno persone che passano quelle ore, perché poi io dico la persona anziana, ma un punto di riferimento, una persona che ha una certa età deve averla, cioè è un punto di ritrovo, per socializzare, per tante altre cose. Poi l'anno scorso abbiamo avuto anche l'aiuto del signor Brunati, che si occupa, diciamo così, per Città Balocchi. Insomma, ci ha dato una mano e sono venuti delle famiglie con i bambini. Abbiamo aperto, diciamo così, le porte anche ai genitori. Vorremmo iniziare un nuovo discorso per far conoscere meglio anche a chi vorrebbe per la prima volta entrare nella bocce offre, fare un corso di bocce, cioè spiegare la teoria, poi fargli giocare, ma più che altro per, diciamo così, sensibilizzare le persone che è una famiglia. Quelli che ci lavorano, perché siamo volontari, cerchiamo sempre di dare il massimo. Quando vengono da noi, noi veramente ne apriamo le braccia perché siamo contenti. Infatti, quando la bocce offre è piena, come sabato che c'è stata con l'associazione Palma, come mi ripeto, è stato vederla così, poi facciamo le gare provinciali, cioè è frequentata. L'unica cosa è che abbiamo bisogno di aiuto perché andrebbe risotturata. La priorità in questo momento sarebbe di rifare il tetto. Anche perché con le piogge di questi ultimi giorni non è facile poi. Non so se va cambiato tutto, forse va, diciamo così, migliorato un attimino perché spendere i soldi per fare i campi, perché noi abbiamo due campi in terra battuta, e vedere poi con un po' di pioggia, vedere tutti allagati, insomma, piange un po' il cuore. Se c'è qualcuno che ci vuole aiutare, a parte il Comune, noi siamo ben dietro. L'appello era chiaramente rivolto al Comune che è il proprietario della struttura, però chiaramente per chi volesse riuscire a sostenervi o sponsorizzarvi, magari si può pensare anche, non so, di organizzare un qualche evento proprio in vista di raccolta fondi. A proposito degli eventi, noi abbiamo la Stecca del 59, con, diciamo così, la rappresentante, la dottoressa Peruzzo, che mi sembra che lavora a Provederato, e facciamo delle gare, diciamo così, il ricavato lo evolve alla canina di gomma. Anche questo è un modo per socializzare, per aiutare gli altri. Noi aiutiamo gli altri, ma se troviamo qualcuno che ci aiuta... In questo caso sarebbe bello riuscire a organizzare un evento il cui ricavato si è devoluto a voi. Per poter migliorare la struttura, perché, ripeto, noi non abbiamo scopo di lucro, perché è solo per migliorarla. Cioè, diciamo così, il ricavato serve solo per migliorare la struttura. Poi, se un privato o il Comune lo voglia fare, io credo che sarebbe anche un valore aggiunto. Questo lo ripeto, perché è peccato chiudere oppure non avere l'unico posto a Comune, perché è rimasta l'unica bocciofita a Comune, siamo noi, ed è situata in un contesto bellissimo. Adesso, peccato che si è chiuso anche il ristorante, dove magari venivano le mamme con i bambini, venivano a vedere la bocciofita. Adesso, purtroppo, anche il ristorante è venuto meno, ma speriamo che prossimamente riaprirà. Noi ci chiediamo aiuto, che si faccia avanti qualcuno, siamo ben lieti. Ecco, intanto, per chi volesse partecipare alle vostre attività, come volontario, oppure proprio iscriversi, come si può fare? Potrebbe presentarsi in via Serafino-Palestra, di fronte all'Istituto delle Canossiane, è molto semplice da arrivarci, rivolgersi o a me o al cassiero, o a chi in quel momento è in bocciofina, fare domande. Noi avremo anche intenzione di fare, diciamo così, un articolo sul giornale per invogliare a venire, a iscriversi e fare un corso di bocce. Ecco, perché comunque i modi per raccogliere fondi alla fine sono quelli. Quindi, o l'intervento in prima persona nel comune, o l'intervento di qualcuno attraverso un evento, piuttosto di qualche privato che decida di aiutarvi, o anche appunto attraverso gli iscritti. Quindi in ogni caso farvi conoscere, far conoscere le vostre attività era il modo, cercare il nostro contributo. No, questo è stato, anzi io vi ringrazio di avermi dato l'opportunità, io sono un po' emozionato, perché è la seconda volta che vengo qui, però spero... Non si vedeva benissimo così. Io spero di trovare qualcuno che ci possa aiutare, a parte il comune che è il proprietario. Magari se vengo anche in privato, benvenga, ecco così. Mi va del bene anche, diciamo, sia dalla bocce office, ma anche per la gente che vive a Como, perché è giusto che li tenga in piedi un posto del genere dove la gente viene e ne fa veramente una seconda casa. Perché passano delle ore in tranquillità, magari si leggono il giornale, magari guardano la partita di bocce, magari si fanno una partita a casa. Ecco, diciamolo, non è fondamentale dover giocare a bocce, imparare a giocare. No, è socializzare, perché dare un posto, dare un punto di riferimento a chi magari a una certa età, un pensionato, non sa dove andare, può venire lì a passare qualche ora in compagnia. Ecco, non solo per i pensionati, mi diceva quando ci eravamo sentiti nel nostro scambio di mail che anche alcuni giovani riescono a trovare accoglienza da voi. Sì, ma io, ripeto, c'è la Teresa Ciceri che è la scuola che viene con i ragazzi, la professoressa Trombetta, se non erro, poi c'è l'istituto alla Comedia di Como, poi c'è l'associazione Palma, poi ci sono le donne, c'è lui e lei. L'idea è quella di aprirsi anche ai giovani. C'è, aprirà tanti, i giovani potrebbero scoprire qualcosa di nuovo, per carità. È giusto la discoteca, è giusto tutto, però se potrebbero magari iniziare a frequentare la bocce, potrebbero trovare un interesse, perché confrontarsi, il gioco delle bocce è uno sport di confrontarsi con l'altra persona e mettere tutto se stesso e dire, beh, io ci ho messo la volontà, ci sono riuscito. E poi si danno soddisfazione quando poi si fanno le gare e riuscire a confrontarsi con l'altra persona e giocare bene è piacevole. Cioè, ho battuto, non è tanto poi il fine di vincere la medaglia, la coppa oppure il denaro, che non c'è più quasi neanche, perché pure lì sono poi in crisi, però è la soddisfazione di aver dato se stesso, di dire, ho giocato, mi sono impegnato, ho vinto, la soddisfazione è tantissima. Io che gioco attualmente, che vado a fare delle gare, non è che ne ho vinte tante, però perché ho iniziato molto tardi a giocare a bocce, però diciamo che mi impegno, qualche gara l'ho vinta, sono arrivata al quinto posto, ci do da fare. Però io credo che poi, proprio il testimone da Teresa Ciceri, che hanno fatto i campionati a Torino, sono arrivati i primi e perciò anche questo qui è una bella cosa per la scuola. Bene, noi l'appello l'abbiamo lanciato, io spero di aver trasmesso anche ai nostri telespettatori e l'entusiasmo che lei è riuscito a trasmettere qui in studio con me. Io spero di non... ci ho messo tutto, diciamo così, me stesso per poter esprimermi. Magari mi sarò dilungato, magari ho anche ripetuto le stesse cose, però credo che... Il messaggio comunque è chiaro. La prima è quella che se troviamo qualcuno che ci possa aiutare almeno a sistemare il tetto e poi le persone che vogliono venire a vedere veramente di persona la realtà della bocce, è un nostro piacere immenso. Io poi ringrazio anche i miei collaboratori, perché c'è il Cassiere, c'è il Vicepresidente, c'è il Presidente che è Domenico Piscitiello, tanto ve le faccio un nome così almeno, e tanti altri consiglieri, direttore sportivo, cioè ce ne sono... Ci sono tante persone che lavorano insieme. E poi ci sono i vari consiglieri che si danno da fare, perché noi lo facciamo veramente per dare qualcosa agli altri. E non è uno scopo di guadagno, anzi, ci investiamo il nostro tempo, ma lo facciamo volentieri, ecco, questo voglio dire. Bene, grazie quindi a Cosimo Moscato, il Segretario della Bocciofila Combattenti. Grazie ancora per essere stato qui con noi. E eventualmente mettetevi in contatto direttamente con loro per qualsiasi tipo di aiuto o magari, perché no, per iscrivervi direttamente anche voi come soci della Bocciofila. Noi ci fermiamo solo per pochissimi istanti di pubblicità, torniamo tra pochissimo, parliamo di settimane dell'infanzia, non mancate. Grazie a tutti.